Ben trovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Un Moccagatta completamente esaurito si prepara ad ospitare tra poco l'incontro tra il Torino di Mazzarri e l'ungherese Debrecen, gara d'andata del secondo turno preliminare di Europa League. Il fisco d'inizio sarà alle ore 21, l'attesa per Capitan Belotti ha commentato il mister Mazzarri in conferenza stampa, bisogna imitarlo perché fa venire la voglia di giocare ai compagni. Con molta probabilità il Granata scenderà in campo con un 3-4-3, ma quella di questa sera è sicuramente la partita della città di Alessandria che si prepara ad ospitare un grande evento internazionale. Per il Moccagatta infatti è la partita più importante finora mai ospitata e sebbene nello stadio Alessandrino in passato abbiano giocato il grande Pelè e il tre volte pallone d'oro Michel Platini. Anche per Urbano Cairo si tratta di un ritorno a casa essendo lui originario della provincia Alessandrina, parliamo del Presidente del Torino. L'incontro verrà trasmesso su Sky Sport 1. E adesso invece che abbiamo argomento parliamo degli esami che sta passando il Comune di Alessandria per i bilanci. Oggi c'è stata anche una conferenza stampa dove si è parlato del piano di riequilibrio finanziario che è stato approvato dalla Giunta. Bisognerà agire molto di più sul recupero dei crediti per esempio la Tari, se non l'avete pagata vi arriveranno i bollettini arretrati oppure se non avete pagato le multe, oppure si dovrà magari vendere le farmacie. Questo è quanto è stato detto in conferenza stampa, ma sentiamo altro nel servizio. Presentata ai giornalisti la delibera di Giunta per l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Alessandria. Oltre al Sindaco Cuttica di Revigliasco e all'Assessore alle Finanze Cinzia Lumiera erano presenti il Vice Sindaco Davide Buzzilanghi e gli Assessori Cherima Feità e Giovanni Barosini. Inoltre i due consiglieri di maggioranza Sciaudone e Pavanello. È stato detto che i 68 milioni che costituivano la voce in rosso del Comune sono diventati improvvisamente 75 anche per rispondere più coerentemente con la richiesta di trasparenza nei bilanci fatta dalla Corte dei Conti. C'è stato un accantonamento che è stato definito prudenziale maggiore rispetto al previsto. In pratica sono cambiate le cifre dei residui attivi e passivi. Per esempio è aumentata la quota dei crediti inesigibili mentre è diminuita la cifra che si mette a bilancio nel recupero crediti. Anche se l'Assessore Cinzia Lumiera ha affermato che gli incassi sono aumentati già di 3 milioni di euro. Abbiamo avuto una previsione di entrate effettivamente più alta rispetto a quanto avevamo previsto grazie appunto alle azioni che abbiamo messo in campo. Adesso è partita la gara europea per la riscossione coattiva delle entrate. Abbiamo potenziato il recupero dell'evasione grazie ai nostri uffici e anche ad altre attività esterne che ci supportano. Oltretutto a breve presenterò in Commissione il regolamento per il contrasto all'evasione. Questo è uno strumento molto importante, uno strumento legislativo davvero di efficacia per gli enti locali perché permette, grazie al decreto crescita che l'ho inserito, agli enti locali di chiedere il DURC di regolarità contributiva per i tributi locali agli esercenti che chiedono licenze, autorizzazioni e concessioni ex novo oppure in rinnovo. Cosa vuol dire? Che si fa il controllo sul pagamento dei tributi, si dà la possibilità alla persona che si scopre non regolare con il pagamento dei tributi locali di regolarizzarsi sulla base di tutte le possibilità che vengono date dal regolamento delle entrate, direzioni e quant'altro. Dopodiché se però nonostante tutto non si mette in regola con i tributi locali è inutile concedere nuove autorizzazioni o il rinnovo. Questo provo che sia corretto non solo per chiaramente il bilancio comunale ma anche per tutti gli altri coloro che invece continuano a pagare correttamente. E parliamo di commercio, Alessandrino, della presa di posizione di un gruppo di commercianti del centro che invitano i colleghi a fare squadra per rilanciare la città di Alessandria. Le idee ci sono ma c'è anche l'urgenza di muoversi e di lavorare ad eventi che rendano il capoluogo di provincia attraente, attrattivo. Sentiamo da Alessandria della Cama. Alessandria città poco attrattiva? Secondo alcuni commercianti sì. Commercianti che si sono rimessi in gioco con una nuova associazione e che suggeriscono alcune buone regole legate in realtà al buonsenso e all'educazione civica proprio per arrivare ad avere di nuovo una città che sia accattivante in tutti i sensi. Piccoli gesti che aiutino il commercio e il decoro cittadino. Parte dalla volontà di poter fare sempre meglio la rivendicazione di un gruppo di esercenti che ribattezzatesi noi commercianti mandrogni ci mettono la faccia e chiedono agli altri di coalizzarsi per tornare ad avere una città che sia un salotto e non in vasa invece da mozziconi di sigarette e cartacce, magari con la prospettiva di diventare anche plastic free. Qui in via Milano, pieno centro storico di Alessandria, con un esercente di questa via che è un fiore all'occhiello della città, si ragiona sul come poter valorizzare la città di Alessandria attraverso eventi che forse mancano o forse vanno strutturati in un altro modo. Prima di tutto dovremmo essere noi stessi commercianti a prenderci cura del nostro diciamo orticello davanti, dalla pulizia anche a come ci improntiamo verso i nostri clienti perché siamo noi che dobbiamo dare esempio alle persone che non lo danno e se ci mettiamo tutti insieme, ci coalizziamo, come si dice, l'unione fa la forza, quindi forza a tutti e cerchiamo di riprendere in mano la nostra città. Riprendendo anche dei buoni esempi perché in fondo copiare, fra virgolette, ma in modo sano e costruttivo non è una cosa negativa. Assolutamente, copiare positivamente, ad esempio i nostri colleghi del Cristo hanno fatto due eventi secondo me molto validi e quindi dobbiamo prendere spunto da loro. Qui ci troviamo in via San Lorenzo e con questa esercente di questa via del centro storico di Alessandria diamo uno sguardo a quello che sta alle nostre spalle, una vetrina sfitta, una vetrina comunque in ordine, non è così dappertutto? No, non è così dappertutto, abbiamo alcune vetrine, la più avanti ce n'è una che è sfitta ormai da molto tempo, che è sporca, viene tenuta male e quindi questo porta anche una mancanza di decoro per la via, per la città e comunque vedere le vetrine anche spente non è bello. Io punterei un po' di più il dito sulla sicurezza, sulla sicurezza che in centro ultimamente non è poi così tanto controllato, così tanto perché ancora lunedì sera qui c'è stata una mega rissa, sono carabinieri, polizia, ambulanze, cioè in pieno centro diciamo che queste cose non sono un buon biglietto da visita. A Torino i carabinieri hanno rintracciato e arrestato in un appartamento di Giaveno il 41enne Daniele Ughetto Pianpache, l'uomo è stato condannato in via definitiva dalla corte di Cassazione a 25 anni per l'omicidio della prostituta nigeriana Antonia Egubunà, il cui corpo fu trovato nel Po a San Mauro Torinese nel febbraio 2012, quando i carabinieri si sono presentati a casa sua a Giaveno per portarlo in carcere non lo hanno trovato, il padre ha tentato di bloccare i carabinieri ed è stato arrestato a sua volta per esistenza. Secondo gli inquirenti l'omicida era pronto per fuggire all'estero, avrebbe raggiunto Terrasini in provincia di Palermo dove la famiglia ha la disponibilità di un appartamento per poi proseguire molto probabilmente per la Tunisia, il tutto documentato con alcuni manoscritti che i carabinieri hanno trovato in casa. C'è una nuova bravata, non sono serviti evidentemente a molto i tre anni di lavori socialmente utili per quattro ragazzi di altrettante famiglie per bene, di Cilie, che appena usciti dal Tribunale dei minori di Torino hanno festeggiato il termine della loro condanna girando un video nel quale hanno insultato le forze dell'ordine. Una bravata che ha subito ha fatto il giro dei social dove i commenti non si sono fatti attendere. Il quartetto che all'epoca dei fatti aveva tra i 14 e i 15 anni si era reso protagonista di diversi episodi di bullismo nei confronti di un loro coetaneo, compagno di scuola preso di mira. Il ragazzino era stato a più riprese picchiato e insultato. In alcune occasioni i quattro li avevano sputato addosso mentre una volta lo avevano costretto a mangiare un panino ripieno di escrementi. Le accuse nei loro confronti erano di ingiurie, minacce, lesioni personali, atti persecutori e tentata rapina in concorso. Ora i carabinieri hanno acquisito il firmato messo in rete dove i bulli si prendono gioco sia delle forze dell'ordine che della giustizia. Veloce nel rubare, altrettanto rapida nel far sparire la merce sottratta, è accaduto in un bar della Consolata a Torino dove una 35enne rumena domiciliata nel Camponomedi di via Germagnano si è avvicinata ad un cliente seduto al tavolino per chiedergli l'elemosina. La donna aveva con sé un foglio sgualcito inserito in una busta di plastica che recava le solite frasi di aiuto. Mentre chiedeva soldi all'avventore ha appoggiato il foglietto sul tavolino con destrezza, ha rubato il cellulare. Una volta che si è allontanata l'uomo si è accorto del furto, una pattuglia della squadra volante si è subito messa sulle tracce della rumena che è poi rintrecciata tra i banchi del mercato di Piazza della Repubblica. Con sé aveva ancora il foglio sgualcito ma del cellulare rubato del valore di 700 euro nessuna traccia. È stata arrestata comunque per furto aggravato con recidiva specifica nei cinque anni. Ad Alessandria invece i carabinieri della sezione radiomobili hanno arrestato in flagganza di reato un 19enne nato in Marocco per aver commesso una rapina a danni di una ragazza romena 29enne. Si tratta di Adela Benzrati, ragazzo noto alle forze dell'ordine per essere già stato arrestato lo scorso giugno in piazzale Curiel per la rapina a danni di una 67enne che aveva aggredito mentre si trovava a bordo di un autobus per sottrarle la borsa del portafoglio colpendola poi con un pugno al volto. Il giovane ieri sera ha notato una ragazza che passeggiava in via Mazzini e ha deciso di scipparle la borsa. L'ha aggredita ma non riuscendo nel suo intento l'ha colpito sferrandole anche in questa occasione un pugno in viso facendola cadere a terra. Il marocchini è stato poi fermato da alcuni passanti e da un agente della penitenziaria di passaggio. Portato in caserma in piazza Vittorio Veneto, il 19enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Una ventina di rifugiati questa mattina insieme ai volontari del Giardino Botanico di Alessandria ha pulito la strada e le erbacce dei vasi di via Trotti armati di scopa e palette con una pettorina sponsorizzata dal comune e da Amag che sulla schiena riportava la scritta Alessandria città normale. I giovani, quasi tutti i provenienti dal Ghana, hanno aderito ad un progetto sociale che piace anche ai cittadini. Sentiamo che tipo c'è. Una bella iniziativa questa mattina con questi giovani rifugiati per pulire le vie centrali della città di Alessandria. Sì, è un progetto che nasce da lontano perché non è una cosa sporadica. Abbiamo formato questi ragazzi al Giardino Botanico per tre mesi, abbiamo insegnato loro potatura, pacciamatura del terreno, gestione di varie specie di piante, sotto il grande lavoro di Angelo Ranzenigo che è il curatore del Giardino Botanico e poi siamo scesi finalmente in città. Il progetto è la pulitura di tutte le fioriere, quelle del comune ma anche quelle dei privati che sono nel centro. Sono circa 400 quelle del comune, più 100 o più dei privati. Le stiamo pulendo, potanto innaffiando. Poi abbiamo il nostro uomo del tablet che segna fioriera per fioriera dove ci sono piante malate, piante morte che grazie a una donazione dell'associazione Social Domus, che è una delle due associazioni che si occupa dei ragazzi che sono con noi, potremo comprare le piante mancanti per sostituire quelle morte. L'altra associazione che collabora a questo progetto è ABC, i ragazzi sono tutti volontari, sono stati una trentina quelli che hanno seguito il corso, non tutti l'hanno terminato perché nel frattempo qualcuno ha trovato impieghi, borse, lavoro eccetera. I volontari sono una dozzina, il patto originario era per due giorni alla settimana ma vista la loro disponibilità quasi tutti vengono tutti e quattro i giorni della settimana in cui lavoriamo, dal martedì al venerdì. Abbiamo già parlato in apertura del telegiornale della grande partita di stasera tra il Torino e il Debrecen che si gioca al Moccagatta ad Alessandria, adesso cambiamo argomento nella pagina sportiva, parliamo di basket, ce ne sono soltanto otto in tutta Italia, una è arrivata a Dovada voluta dalla squadra locale della Red Basket, si tratta della macchina spara palloni, un metodo innovativo di allenamento. Ce lo mostrerà Fabrizio Mattana tra poco nella pagina sportiva e poi subito dopo avremo il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci.